Nei mesi scorsi abbiamo raccolto da parte di molti imprenditori, da molte associazioni, diverse criticità sul PSR precedente, sulle modalità di pagamento, su alcuni gravami burocratici e ci eravamo ripromessi, abbiamo preso questo impegno di semplificare e di creare un po' di innovazione sul percorso dello sviluppo rurale. Lo scopo di questa riunione con tutti gli stakeholder dell'economia agricola, compresi anche il ministero e anche i soggetti intermedi, i tecnici, gli agronomi, gli agrotecnici, le associazioni di categoria ma anche gli imprenditori più significativi, oggi entriamo nel vivo di quali scelte fare per il futuro, come impostare dei modelli organizzativi per il PSR innovativi, semplificati, che possano rendere più facile e più conveniente fare l'agricoltura nelle marche. Siamo la regione col maggior biologico d'Europa, abbiamo una grande opportunità di biodiversità, però dobbiamo ancora far crescere le nostre filiere e fare in modo che le imprese agricole ripartano con slancio. Abbiamo di fronte un contributo pubblico europeo molto importante e su quello vorremmo fare delle scelte innovative ascoltando chi ha le competenze e chi ha delle idee da darci. Le misure più importanti che noi vorremmo mettere in piedi sono senz'altro ripartire dalla misura per i giovani agricoltori, una misura per gli investimenti strutturali e sul biologico, che sarà oggetto della discussione della prima parte, l'N più 3 sarebbe, i contributi che noi possiamo spendere entro quest'anno e su questo vorremmo raccogliere dei contributi anche per rendere più innovativi questi bandi e più semplificati. Per il successivo partenariato invece ripartiamo da zero ed è tutta una storia da ricostruire, ma per farla cercando un po' di innovazione e un po' di semplificazione abbiamo bisogno del contributo di tutti i soggetti che ci possono davvero aiutare. Certamente il nostro obiettivo politico come Giunta è quello di rilanciare il mondo agricolo e il settore primario della nostra economia.